Hi Warriors! Woosom! Ma nemmeno 61 anni e stiamo nuovamente qui! Strozzandoci, ma sussoma! Per un nuovo tento servizio di video on play! Heheheheh! Consolio un H... Red e rosso, H un minion, H un coglione! Quindi... Console di servizio. Installatore chip Omnitool. Crea, modella e ottimizza il tuo Omnitool con strumenti e assistenti completamente personalizzati. Puoi avere il tuo piccolo Jarvis in miniatura nel palmo della tua mano, immagino a questo punto. Quindi, toolbox. Ok, quindi... Pathos... Pathos, Verde, Sterzo! Questo è Pathos II! Quindi è un prequel di God of War... ...ambientato nel futuro. Quindi God of War in realtà è nel futuro... ...dopo il 2000. Quindi questo vorrebbe dire che più avanti ritorneremo indietro per poi ritornare avanti... Oh! E' oltremodo interessante. Ma non ce ne frega un cazzo! Quindi non ci serve il nostro... Om... Omnitool... ...box? Credo... ... Direi che questa idea non funziona. Wait a second! Ehm... Posso avere il mio... No? Non posso avere il mio Omnitbox. Ok. Potrei... ... ...uscire... ...di qui! Oh! Ahahahahahahahahahahahahahahah! Ehi! Io scherzavo! A quanto sembra sono più geniale di voi sedie! In ogni caso... ...sbloccare il terminale della console di assistenza... Ok! Va bene! Whipi! Whipi non mi piace per niente! Voglio tornare... No? Non posso tornare indietro? Oooooooooooookay! Capisco! È in effetti un bel posto! Salve! ... Chezza... ... ... ... ... ... come faccio questo? direi di no, direi che non siamo ad atlantide oppure atlantide era una merda probabilmente è per questo che non la troviamo che cazzo che, carri? carri un mix niente più carri orrandi ricordi col carri no no siete stati voi a mettere qui il carri solo per intossicarmi di nuovo ok posso no allora torre di osservazione security deposito tecnologico sala di ritrovo infianto termale le saune voglio andare a farmi una sauna o magari no non oggi in effetti non mi va più di tanto di farmi una sauna ponte dei robot ci sono dei robot sto rivivendo alien isolation in questo momento di nuovo di nuovo robot robot assassini vero? non sia mai che siano robot buoni simon che cazzo ti sta succedendo ferma un attimo buono fermo che cazzo hai è un paio di robot oh magari no magari è non lo so ti ricordano la tua infanzia da bambino quando i tuoi genitori ti dicevano non sai ma non avrai mai un robot perché sei un bambino stupido oh no madre oh voglio tanto un robot della pathos seconda o psilon perché y era troppo mainstream immagino o psilon ok bene in italiano intendi? si strano intendi? signora io non vorrei drogarmi in realtà oh sono i ricordi del roba oh what the fuck ok c'è qualcosa? oh si ce ne fatti signor mostro oh oh qui una volta ce ne erano due ok oh capisco le tracce vanno di là bene seguiamo le tracce cosa volete che possa mai succederci in fondo al mare in fondo al mare insieme a un assassino kill un robot con precedenti assassini non so neanche che sto cantando proprio così c'è qualcosa di ok non voglio saperlo non voglio saperlo non voglio assolutamente saperlo oh assolutamente no cari quindi ah devo fare qualcosa qui? no? ok bene ridurre le possibilità che mi scopra chi? di che cazzo stai parlando? di che cazzo stai parlando? sano come un pesce sano come un pesce io ci siete sempre voi qui in mezzo cosa abbiamo qui? l'omnitool è un'interfacia avanzata per accedere e gestire e controllare sistemi informatici l'intelligenza integrata e include un set aperto di comportamenti e protocolli che consentono di urinare quando volete bene ho il mio Omnitore della Aimatsu usa Tab per attivare per consultare l'inventario quindi è quello ok, quello è l'inventario perf oh come va la testa ciccio eh eh no, dite che non far ridere perché è un cadavere è tipo un uomo morto probabilmente aveva una famiglia e quindi probabilmente sono in pena per lui perché non sanno che cosa gli è successo non me ne frega un cazzo ok, ora sono qui sperduto in mezzo al nulla con probabilmente un cazzo di postura da Bioshock con dei bupponi che mi insegue quantomeno è questo quello che sono riuscito a capire guardandolo per mezzo secondo quindi probabilmente è un Big Daddy coi bupponi quittese un coda chi tese un coda bye e bye bye e bye 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 via da qui via da qui via 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 da qui torna qui torna là tornando stavi alla vabbè insomma quello che è oh no signori signori volete vedere un piccolo trucco di magia che ora ci sono e ora non ci sono più sparito 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 no vabbè sei mai io che cazzo no 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 apri 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 chiudi chiudi ok bene quindi inserisci l'omni tool per accedere ok bene quindi cosa dovrei a iep se dove cazzo oh aspetta 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 ho visto qui eccola ok ok saluto del sistema accesso a remonto navigato server offline alimentazione principale sospesa siamo nella merda più totale ma ok sistema di emergenza 13 giorni oh quindi abbiamo tipo 13 giorni d'aria immagino ok opsilon bla 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 ok immagino chi è chiaro è chiaro è chi è toronto pps u 4 4 16 c wow 77 completato ok perfetto allora siamo a posto il tuo omni tool è in condizioni perfette ma non do il chip strumentale ti ricordiamo che il tuo kit accesso di sicurezza intersitu compreso non sarà disponibile senza un chip strumentale per continuare da valerti i tuoi privilegi designati inserisci un chip strumentale ed esegui l'aggiornamento non c'è l'ho un chip e ho aperto un ok che cassetta di sicurezza oh ho un chip ok perfetto ora ho il mio chip yep quindi benvenuto benvenuto il tuo omni tool è in condizioni perfette ma non è dotato di un chip corticale personalizzato al momento sei assistita all'intelligenza integrata predefinita aiutante jane noto l'installazione di un chip corticale disattiverà l'aiutante e potrà modificare notevolmente l'utente l'esperienza dell'utente cristo santissimo a me all'italiano perfetto non lo farei mai assolutamente sfoglio porta è ovvio è ovvio sistemi di sicurezza tipo mostri terribili alla porta ok passerò john stromeyer cioè mi ha fatto un pippone così perché non potete fare tutto perché ci vuole il sistema di sicurezza o c'è un sistema di sicurezza che ti impedisce di entrare da una parte a gira quel cazzo di sistema di sicurezza ragazzo ok dammi il mio omni tool potreste ok aggiorniamo questo yep mio livello 3 ok quindi immagino che io che io ora abbia accesso ai livelli 3 meglio di sì quindi postazione pilotaggio 3 rete costrutti in co che io volevo dire è ovvio nessun pilota nessun pilota stato connessione ok perfetto rapporto rapporto ok bene immagino che siamo nella merda più totale fantastico wii oh wait a seco ah no vabbè qui è percendo la luce non mi interessa devo andare da altre parti altri posti altri luoghi tipo seguire quel cazzo di mostro di merda ok ok le ho detto che ho dell'ottimo esfoliante per la pelle signore li regaliamo veramente li regaliamo è un prezzo stracciatissimo come li li mettiamo noi non li li mette nessuno signore quindi per carità di dio non mi uccida posso utilizzare questo no non posso utilizzare questa roba bene perfetto perfetto oh immagino che il signore non voglia un esfoliante per la pelle vero lei non voglia un cazzo di esfoliante per la pelle ok ok quindi riceverà da noi il nostro iber maxi ultra sfoglia pippe 7000 spero le vada bene merda oh 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 merda merda ok bene quindi termine questo video un play c'è una prossima video un play sempre che lo posso rex 91 immagino che dovremmo fucire da quel cazzo di mostro di merda ho tanti bei ricordi di amnesia iniziano a tutti quanti a rientrare qui dentro si che bello che bello fantastico quindi spero che questo video un play vi sia piaciuto nel quel caso scrivetelo qui sotto nei commenti e cliccate sui link che compaiono nel video ogni tanto a inizio a finire video ora non lo so per andare nei prossimi video ci vediamo al prossimo video sempre il vostro rex noturo ciao a tutti oh yeah